Ci sono alcuni dati che riguardano l'economia reale che vorrei mettere a fuoco con voi. Il più importante riguarda la disoccupazione che scende al 9,7%, il tasso di disoccupazione che è ai minimi dal 2012. Lavora il 59,2% degli italiani, sono numeri quindi che si muovono in un senso positivo. Importanti sono anche quelli che riguardano sia il mercato dei giovani sia il mercato delle donne. Quindi sono numeri che ci danno un senso di incoraggiamento e ce lo danno in uno scenario dove purtroppo la crescita è ferma. Siamo purtroppo a secondo trimestre di stagnazione, abbiamo una crescita a zero ma che purtroppo si mette dentro un rallentamento generale dell'eurozona. Allora questi due dati, abbiamo quindi dati percentuali, dati statistici sulla disoccupazione che sono positivi, molto positivi e perché continua il trend di crescita per quello che riguarda una delle sfide più importanti io penso per un governo però fa un po' a pugni con questa trappola della stagnazione che ripeto vale per l'Italia ma vale in termini di rallentamento vale anche per l'Europa. Questo ci impone, inteso impone il governo italiano, ci impone una riflessione che io considero veramente cruciale. Allora visto che questo governo, questa maggioranza finiscono sulle pagine dei giornali e nelle notizie dei telegiornali soltanto per l'alto tasso di litigiosità che in buona parte c'è perché delle frizioni sono sotto gli occhi di tutti, sono evidenti e talvolta secondo me sono anche frizioni un po' pretestuose, un po' al di sopra delle righe. Io penso che la vera grande sfida di un governo, a maggior ragione un governo che si dice del cambiamento, sia la manovra economica. quindi siamo alla vigilia di una scrittura, a settembre dobbiamo avere le idee chiare A. se il governo va avanti, se la maggioranza va avanti ma B. su quale legge di stabilità, su quale manovra finanziaria, per usare ancora questi termini, si vuole scrivere perché lì dentro c'è la visione di paese, questa è la cosa che secondo me è più importante di tutte al netto di tutti i litigi che si fanno tra Lega e Movimento 5 Stelle e De Gara a chi per primo caccia due dita negli occhi all'altro ecco io penso che sia arrivato il tempo di guardarsi negli occhi e dire cari alleati che vogliamo fare, vogliamo costruire insieme un percorso per cui attraverso la legge di stabilità attraverso la manovra finanziaria dobbiamo vincere le sfide dell'economia reale dobbiamo vincere la sfida della crescita ci vuole una politica espansiva, ci vuole una flessibilità beh sfondate con me una porta aperta si va in Europa con un testo che trova assolutamente l'unanimità di Movimento 5 Stelle e della Lega un pieno consenso, una piena condivisione sulle sfide che vanno vinte oltre che giocate si va in Europa e lì si contratta questa flessibilità e la si contratta sulla base di una commissione che sta per nascere e che non può nascere all'insegna del solito paradigma quello per cui dati alla mano un po' tutta l'Eurozona vede segnare il passo io credo che tutti questi numeri siano importanti perché inchiodano la politica alla grande sfida che è la sfida della crescita se andiamo avanti con le ricette dei governi precedenti che sono stati governi che si sono bevuti tutte le cosiddette ricette dell'Europa non si andrà lontano quindi se rimaniamo dentro la stessa architettura tanto cara a Bruxelles non si va da nessuna parte dobbiamo avere il coraggio di una sfida a costo anche di prenderci tutta la flessibilità del caso di spingerla più in là possibile per fare che cosa? beh sicuramente per abbassare le tasse sicuramente per agire ancora su quel welfare perché guardate che oltre al tema dell'occupazione dei dati che riguardano l'occupazione c'è anche il tema dei salari ecco perché dobbiamo sempre lavorare sia sul versante del cuneo fiscale quindi delle tasse legate al lavoro e della fiscalità in generale ma dobbiamo anche non perdere di vista un dato che è negativissimo e cioè che i salari sono inchiodati se i salari sono fermi a palo da 25 anni come ci dimostra il rapporto dell'Inps vuol dire che stiamo sbagliando completamente il senso di marcia senza un salario congruo senza, e io l'ho scritto nella vita rate senza quella busta paga che è corrispondente alle ore di lavoro, all'impegno che comunque ci si mette questo paese non può crescere perché i consumi rimangono inchiodati e allora quando la busta paga quando i salari sono fermi da 25 anni ecco che si ricorre a quel maledetto meccanismo del prestito e si entra nella spirale maledetta sempre il rapporto annuale dell'Inps ci dice che i salari sono fermi a palo da 25 anni quelli che volano sono i super stipendi e quindi ancora una volta l'allargamento della forbice tra i ricchi e i poveri che non è un luogo comune ma ahimè è la fotografia che ci sottopongono i dati di questi anni ultima cosa che riguarda sempre le sperequazioni e ne abbiamo parlato anche nel sito ilparagone.it a proposito di furbetti a proposito di evasori fiscali a norma di legge ecco che abbiamo il record di evasione fiscale per il sito booking.com i soldi se ne vanno sempre nei paradisi fiscali e questo tutto perché abbiamo non è il caso di specie ma abbiamo sempre chiuso gli occhi nei confronti di questi grandi colossi che dovrebbero rientrare nella cosiddetta modernità abbiamo chiuso gli occhi su questi grandi colossi che sono campioni mondiali di evasione fiscale a norma di legge va bene, ciao a tutti